Secondo la Lega Nord l'operazione Mare Nostrum è inutile e costosa, perché? È diseducativa, aggiungiamo. Abbiamo presentato sia a Camera che a Senato due emozioni di tenore identico per chiedere di chiudere con questa operazione che ha una serie di risvolti negativi. Uno, diseduciamo praticamente tutti, perché arrivano in Italia, le comunicazioni funzionano benissimo, tutti sanno che se vanno verso Malta vengono respinti, pur essendo il tratto per attraversare Africa verso la Spagna, ma molto più piccolo che non quello che devono intraprendere per arrivare in Italia, nessuno va verso la Spagna perché sa che verrebbe respinto anche in modo violento. Tutti sanno che adesso noi non solo non pattugliamo le coste, ma li andiamo addirittura a prendere quasi sulle loro coste, una specie di servizio taxi li portiamo a casa. Questo si diffonde, questa notizia crea chiaramente nuovi stimoli a partire, non a frenare, ma a incentivare addirittura gli arrivi. Noi spendiamo per questa operazione 9 milioni di euro al mese. Dobbiamo dire in aggiunta a questi tutta la gestione dei CIE e dei CARA, per cui servizi d'ordine, servizi di protezione civile, accoglienza, eccetera. Non riusciamo a dare risposta perché anche il governo Renzi che ha voluto dare una specie di segnale di miracolo non riesce a dare a esodati, disoccupati, appensionati neanche quegli 80 euro perché non ci sono soldi in cassa e buttiamo via questi soldi, noi diciamo, dalla finestra. Camera e Senato, Commissioni, Esteri e Difesa hanno deciso una cosa, facciamo una valutazione, facciamo una valutazione a costi benefici, possiamo mantenere ancora questa missione in essere? È conveniente tenerla in essere? Probabilmente no. Arriveranno anche le istituzioni, chiaramente dopo la Lega, ma arriveranno anche le istituzioni a confermare che i dati nostri sono o saranno stati corretti e dovranno dire che questa operazione deve chiudersi nel più breve tempo possibile.